In diretta dal circuito di Algarve, in Portogallo, vai c'è nel terzo round della Prime League, stagione euristica 2021-2022, amici di Formula Italia Team come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi, Roshi, insieme in cabina di commento dopo un'odissea dei problemi tecnici, ritroviamo Sebastiano Blancardi, lo pseudonimo è quello di... Buonasera a tutti, sono felice di finalmente riuscire a commentare la Prime dopo un'agonia durata a tre mesi, ovviamente il mio debutto avviene qua, sui circuiti di Algarve in Portogallo, un circuito molto molto bello, che io non ho ancora avuto la fortuna di provare, ma che comunque vedo che è molto molto tecnico e come appunto parlavamo poco fa, ha tanti saliscendi, quindi tutti i ciechi, l'uscita, quindi... Molto bene, grazie mille, un saluto anche alla direzione di gara, che questa sera è piena di rappresentanti, andiamo in ordine alfabetico, badolato Andrea, ciao Andre! Un saluto a ciò che è rimasto della direzione di gara, credo che siamo a pezzi, buonasera a tutti! Coppola Ernesto, ciao Raffaele, buonasera a tutti! Etta Morri Lorenzo, allora in quel momento... E' tornata a te le decine ordine alfabetiche che si è andata nel panico per metterli... comunque buonasera a tutti! Molto bene, c'è stata una settimana di posticivo, c'è voluta una settimana di posticivo, ma anche la Prime Negra arriva per la sua prima volta nella storia a Portimao, sui saliscendi, lo stiamo vedendo in questo momento con Ferra che per il momento tra l'altro guida la classifica, non mancano poco meno di dieci minuti al termine Splendido tracciate la gara, come diceva in precedenza Sebastiano, pensate alla venticinquesima pista che ospita una gara ufficiale di questa categoria, ovviamente Master e Pro hanno poi corso anche all'Istanbul Park, al Novo Green c'è qualche pista in più, ecco se potete sbirciare se volete, soprattutto sbirciare sulla nostra il nostro sito è una bella Prime dopo due gare molto rocambolesche, condite da safety car, errori, anche un po' di pioggia in Cina tutto sommato però vediamo tre protagonisti, tre candidati almeno per il momento al titolo con una vecchia conoscenza, quella di River Marathon, per il momento è tra l'altro in undicesima posizione e va ad iniziare solo in questo momento il giro, Christian Rivero a bordo dell'Alpin un novellino, il buon, nel miglior senso del termine ovviamente, Leuz 27 anche lui candidato per il momento alla lotta al titolo Leonardo Romeo ha il suo esordio qui su Formula Italian Team ed un pilota diciamo a cavallo tra queste due situazioni citate ovvero Ferro 87 e Fabio Ferracini che ha la sua seconda stagione da pilota ufficiale senza dimenticare una metà che ha corso come Wildcard quando è esordito, occhio a River che entra completamente di traversa non abbiamo visti tanti di errori finora in questi primi dieci minuti i quali fanno una pista molto molto insidiosa con tanti saliscendi un occhio di riguardo anche ai ragazzi appena fuori alla top 5 in particolar modo la coppia Red Bull che è sembrato il team più ravvicinato anche a livello cronometrico davvero ben bilanciato e poi ci sono le solite e immancabili presenze e variabili di Robina, Spaziale, Spinotino, Condita ecco quest'anno dalla maturazione che stiamo aspettando di Krikonen vecchi come Dio e che probabilmente arriverà sicuramente anche con Matipuzzo e purtroppo questa sera assente Super Simu che tra l'altro nello scorso GP in Cina ha anche ottenuto il suo primo podio rapido occhiata alla classifica e poi ci tuffiamo definitivamente in qualifica con Ferra che proprio è capo della classifica pilota con 45 punti secondo l'EUTS a quota 40 28 per River Doctor Who 20 Super Simu che chiude la top 5 con 19 punti nel costruttore invece guida la Mercedes davanti ad Aston Martin Red Bull Alpine McLaren e Ferrari Seba prima volta per te in Prime League prima volta per la Prime su questa pista cosa ti aspetti dai ragazzi della Prime e da questo tracciato soprattutto in gara? allora che cosa mi posso aspettare da questo circuito? beh ovvio che qua ovviamente purtroppo per fortuna mettiamola anche così per fortuna perché comunque ovviamente l'imprevedibilità e l'emergenza quindi il ribaltarsi della situazione è sempre dietro l'angolo perché qua comunque ci sono tante corve cieche che non si vede però purtroppo ti può dire anche che appunto purtroppo perché in quei punti ci rischia magari ad esempio ci ricordo che non crede che è stato un progetto che da un certo punto di vista può essere anche pericoloso però aggiunge quel pepe giusto a tutto il condimento mettiamola così a questa gara e a proposito Ferra 87 parlando proprio della corpistica che è stato venuto in questo momento si è messo in prima fila in pole position con l'117878 quindi comunitarnamente si è andato meno tranquillo e nessuno che allora sembra esigliarlo a meno di colpi clamorosi ma mai viene mai perché mancano di colpo se c'è un fucs per Alex Pilotino ci affidiamo anche al nostro tracker live timing ve lo ricordo anche voi ragazzi se volete dalla chat potete andare sul sito www.formatletalenteam.com tutto sommato nel T1 c'è un 22.4 per Alex Pilotino non male ma però si gira in trazione curva 5-6 davvero molto insidiosa attenzione anche a fare manovre questa mi ricorda già un po' l'Opeschi in Cina per la gufata questa sera ci ho già pensato io andiamo a Redi ma tu l'hai nominato io sono andato su di lui e sto girando vediamo allora Leutz sperando di non portare troppa sfortuna che credo sia un po' in ritardo poiché il T2 la fine dell'altra sera ragazzi che ogni pilota che nominavo lo faceva fuori no speriamo di Leutz a 3-10 e mezzo di vantaggio su su te e il T2 un po' più avanti forse la vitamin è leggermente in ritardo almeno per quello che sto vedendo io poiché già mi dava il passaggio al T2 quando Leutz ci doveva ancora arrivare ma comunque sta arrivando in questo momento nel T3 alla penultima curva che personalmente davvero non si è riuscito a digerire lui molto bravo molto cucito un po' di short shift qui in trazione poi ci si lancia in questo discesone con il carico della vettura è particolarmente divertente sentire il peso lo spostamento del carico del mezzo Leutz va quindi sul traguardo per migliorarsi va ad aprire la seconda fila ottenendo la terza posizione fermandosi a 274 millesimi dalla pole position di Ferra sopra avanza un Kregor che almeno per il momento in qualifica in generale in corso di questa stagione si è difeso poi in gara purtroppo arriva sempre qualche errorino però per il momento si è difeso si è rilanciato anche Alex Pilotino in pista ci sono solo 4 vetture per il momento quando mancano 3 minuti e 40 Robby sul traguardo grazie mille per salire in ottava posizione ancora lontano da tempi di rilevo però si mette sempre lì a battagliare proprio tra i due amici e nemici di mille battaglie Alex Pilotino e Naspaz se voi ti racconto cosa è successo a Robby prima nella stessa precedente è l'uscita da è un particolare la cosa è l'uscita da curva 12 e si è andata a fare una passaggiata per i campi e si è perso tra la curva 12 e la curva 13 non è facile ci sono anche tante vie di fuga c'è qualche diversa configurazione del tracciato anche qui è non solo quella utilizzata dalla MotoGP ma anche per le vetture turismo visto che un poco come al Porricard decisamente meno dei 500 e passo dagli auto configurabili però anche qui si viaggia sul centinaio quindi è facile ogni tanto perdersi distrarsi e il problema che abbiamo visto anche nell'allenamento nella scorsa settimana è che è facile anche finire in testa a vota e che il gioco vada poi a squalificare il pilota perché subito le trovi contro mano non ci sono barriere a separare specie in doppio tornante prima verso sinistra e poi verso destra lunghissimo del T3 quindi è facile ritrovarsi contro mano tagliare la strada è complicato la preoccupazione era che lo squalificasse perché mattesse contro mano però fortuna si è riuscito a fermare in tempo per il momento da segnalare comunque la prestazione anche della seconda almeno classifica cronometrica alla mano Red Bull ovvero quella di Kick-O-Driver che ha fatto registrare questo tempo ma con una gomma media mentre tutti gli altri piloti sono in pista ed hanno fatto registrare la propria migliore prestazione con la gomma soft e si rilancia in questo momento anche Dr. Wu a caccia della sua prima pole position in carriera dopo la stagione d'esordio l'anno scorso per lui proprio in Prime League allora va ad attaccare se è possibile lo facciamo anche on board con il pilota Red Bull e le 15 curve di 4,5 km 653 del circuito dell'Algar ve l'avevo scritto nelle statistiche della master quindi sono quei numeri che rimangono impressi ovviamente a livello di master di statistiche della Prime non abbiamo molto su questo tracciato visto che come dicevamo è la prima volta che i campionati fit arrivano qui c'è giusto da segnalare che Alex Piloti non va a timbrare ancora una volta il cartellino per quanto riguarda le presenze in Prime 106esima presenza che va a correre proprio un gran premio di Prime League oltre le 160 invece in generale visto che lui corre fin dal 2014 ha corso anche sport e pro league quando i campionati erano ancora 3 poi nel 2016 la nascita della Prime League tra l'altro Prime che si sta celebrando la scorsa settimana ha iniziato a ricelebrarsi con il Prime League Ultimate Showdown magari nelle pause durante la gara in qualche momento morto ne torneremo a parlare visto che è la vera una splendida iniziativa e già sta rispondendo successo rispetto alla stagione all'annata un po' di magra ecco su Formula 2020 Dr. Wu del mentre che citavamo 1 a 17 809 io ho detto che ho detto prima che la pole position poteva essere messa in dubbio infatti Dr. Wu l'ha messa in dubbio attenzione scusami arriva Ferra 98 centesimi no 98 millesimi di vantaggio a T2 ok stiamo seguendo Ferra vai intanto Seba concludi la tua analisi vai vai e dicevo appunto che lui che prima ha fatto la pole io ho detto che magari poteva essere messa in dubbio però Dr. Wu l'ha fatta e ovviamente c'è questa bella battaglia tra i due per la pole è molto molto interessante però peccato che appunto Ferra ha tagliato quindi non è riuscito a far segnare il tempo quindi dovrebbe in teoria rimanere secondo visto che le qualifiche sono ben finita se ha benzina per un altro giro trova davanti a lui Naspats giro attuale successivo ah allora c'è anche River che sta cercando il giro eh River ancora senza tempo in effetti intanto è sposta la bandiera a scacchio quindi termina qui la qualifica sta per giungere sul traguardo una Aston Martin quella di Kiko Medio poi arriverà immagino Kiko Driver e poi River Tsunami dietro di River c'è anche Dr. Wu ma ha già concluso il suo tempo la meccanina di Naspats rallenta allora vediamo prima chi come Dio sul traguardo per magari salire da questa decima posizione si avvicinarono ma non basta allora River Marathon River è in linea per la P3 vediamo se il terzo settore l'ha portato a casa ah sesto è un pochino più lento un T3 che non gioisce Kiko Driver invece Kiko Driver terzo con uno 17885 quindi anche un bel giro comunque attenzione alle due Red Bull eh sì a 7000 esiti dal poter fare il colpo grosso in casa Red Bull arriva Leuz che ottiene la quarta posizione sta arrivando in questo momento no Naspats come ho detto ha alzato il piede quindi dovrebbero essere terminate quelle quali Figo Unferra che ritorna ai box allora Dr. Wu vado a ricercare le statistiche perché dovrebbe almeno essere la sua prima pole position in carriera e diciamo un colpo grosso in casa Red Bull occhio perché l'abbiamo detto anche in apertura sembrano il team più ravvicinato in quanto a prestazioni anche in Cina li stavamo vedendo lì con il passo gara e Kiko Travera è arrivato vicinissimo da una possibile prima fila della casa con licenza austriaca Fortunatamente il silenzio sto andando a cercare soprattutto per Dr. Wu lei presenta che dovrebbe essere la ventitresima gara a memoria vado perché più o meno voi l'abbiamo seguita qui in molti anche la Praia in questi anni mi sembra che di Claudio pole mi sembra di non ricordarlo no sono andato a vedere sono andato a vedere statistica ed è la riflessione della prima pole sono andato in 4 in 2 decimi nemmeno molto bene quindi c'è una bella lotta per i primi 4 ed è molto 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 interessante questa lotta proprio tra i primi 4 e Dr. Wu ovviamente ha ottenuto una pole anche in maniera inaspettata comunque perché io ho detto all'inizio appunto che la pole poteva essere magari ovviamente messa in dubbio infatti lui l'ha fatto ma comunque in maniera inaspettata perché fino all'ultimo non lo sapevamo quindi un'ottima pole ed ovviamente è bello partire davanti anche se su questo circuito perlomeno dal punto mio di vista non so quanto possa essere vantaggioso cioè non lo so però vedremo fare ritmo non avere un disturbo soprattutto del T3 un disturbo aerodinamico può aiutare per alcuni piloti invece più in difficoltà che non hanno troppi chilometri magari di esperienza su questo tracciato invece stare lì nel gruppo pensando un po' a Robby ecco che nella qualifero abbiamo visto un po' andare in esplorazione con il tracciato può essere comodo non è facile sorpassare sembra che il rettifilo lungo conceda ma in realtà se il pilota riesce ad uscire bene nella penultima curva portare tanta velocità sfruttare anche l'Hers ci vuole un po' di coraggio ecco nel lanciarsi all'interno di curva 1 giovedì lo scorso giovedì abbiamo visto una splendida lotta proprio per la vittoria tra J Sport e Matthew hanno dato un esempio che si può battagliare stando vicinissimi per tutta la pista essenzialmente quindi le occasioni ci sono però insomma bisogna costruirsela e anche volersela prendere con forza eventualmente la posizione poiché sì ci sono le vie di fuga in asfalto ma i panettoni all'interno dei cortoli sono molto molto pericolosi da quest'anno ci sono i danni al fondo ci vuole davvero tanto pelo nell'andare così vicino a quei salsicciotti proprio che troviamo all'interno spread intanto il sole sul circuito dell'Algarve allora tra pochissimo il via di questo terzo giro di formazione di questa sesta stagione con la prime league alla stagione guuristica 2021-2022 tra pochissimo andremo anche a dare uno sguardo quindi anche alle possibili strategie alzano noi ci aspettiamo una singola sosta vista la distanza di gara impostata al 50% 133 giri più o meno dovremmo essere su una ventina di giri per la gomma media è difficile arrivare alla decina per la soft la hard come di consueto consente di arrivare tranquillamente fino in fondo ma non offre quella fiducia che soprattutto ci vuole nel T2 Ernesto con tutti quei saliscendi avvallamenti cordoli rapidissimi il peso della vettura è bellissimo però è davvero facile che si alleggerisca il mezzo il problema della hard è che talmente trova tanto dura che sia in accelerazione che in percorrenza curva non ti dà la sicurezza necessaria per quei curvoni dove sarebbero la massima precisione la massima reattività della gomma quindi penso che opteranno tutti per fare rossa gialla soprattutto i primi 10 perché sono le due gomme che ti permettono di avere meno rischi nel T2 e poi il punto più difficile della pista circa 25 secondi per un pit stop pit limiter come di consueto imposta a 80 km oraria occhio all'uscita dalla pit lane perché in qualche undercut si potrebbe arrivare molto vicini la pit lane spara veramente i piloti rapidissimi fin da subito all'interno di curva 1 ovviamente terza gara di questa stagione e quindi soltanto due diversi vincitori di un GP in questa sesta stagione come detto con la prime Ferra che ha vinto in Bahrain e Leuz invece in Cina non abbiamo particolari statistiche come detto per quanto riguarda questa categoria su questo tracciato e quindi ovviamente nessun campione della prime ha mai vinto su questa pista dalla chat buonasera a tutti quanti bellissimi e fateci sapere secondo voi ci sono i fit point potete riscattare un messaggio in evidenza per farci sapere chi sarà il vincitore di questo GP secondo voi io mi rivolgo al buon Sebastiano per secondo te ecco chi ne uscirà vincitore per la prima volta nella storia della prime qui dal circuito di Portimao allora ovviamente c'è sempre una prima volta perché appunto è la prima volta che si corre su questo circuito Ferra 87 ovviamente è il leader momentaneo del campionato e potrebbe vincere lui ma Dottor U è in pole quindi vedremo anche Ferra 87 che cosa farà in partenza o comunque dopo la partenza se non gli andrà bene la partenza per cercare di recuperare quindi ovviamente vedremo tutte le strategie possibili anche perché sicuramente Ferra 87 vorrà mantenere la leadership e ovviamente è importante mantenerla sì che tanto siamo in zona della stagione però comunque chi bene incomincia meglio finisce quindi è giusto che la mantenca se ci riesce assolutamente fa morale fa morale allora tutti quanti con la gomma soft utilizzata in qualifine nella top 10 a differenza chi come dicevo che dall'undicesima posizione scatterà con la gomma media quindi andrà più lungo rispetto agli altri allora tra pochissimo il via dei 33 giri un totale di 153 chilometri a 549 metri per concludere il gran premio del Portogallo griglia di partenza che si sta andando a comporre come al solito sorrisi palpitazioni tremori un po' di soliti piccoli rituali poco prima del via del terzo round della stagione 2022 il 21 della Prime League prima marcia pronta 4 3 2 1 e via si spengono le luci con una bella partenza di Dottor Hu attenzione con Ferro 87 di fianco che va anche un pochetto di traverso attenzione qualcuno va largo là in fondo con Ferro 87 che scende quindi terzo e Leuz che passa primo che va anche largo insieme a Dottor Hu anche lui con Ferro 87 che intanto lo infila e quindi si porta in seconda posizione con Matti Puzzo invece quarto in lotta con Cricone che quindi in questo momento sono in lotta invece Matti Puzzo quindi passa quarto con Cricone quinto Naspat sesto River Marston un po' largo su Kiko Driver che sono in lotta quindi per la settima posizione vediamo in questo momento quindi chi avrà la meglio uh bellissima soppostazione intanto anche di River Marston quasi su Naspat in lotta ruota ruota attenzione ma Naspat rimane comunque sesto con River Marston settimo però c'è il nuovo Kiko Driver dietro quindi bellissima partenza molto molto movimentata là dietro e una bellissima partenza soprattutto di Leuz che in questo momento è già primo quindi bella bella partenza assolutamente drammatico invece lo scarto per Kiko Driver come vediamo dalla grafica ha già perso 5 posizioni sereno Leuz ha trovato uno splendido corridoio all'interno un po' di difficoltà anche per Alex Pilotino ingaggiato da Robby dietro di loro c'è Kiko Medio che come detto dovrà stare calmo Kiko Driver è arrivato molto sotto al posteriore dell'Alpine di River Marston quasi ad andare al contatto quindi al comando questo primo giro Leuz è già quasi fuori dal secondo sul secondo preciso su Dr. Who perché è quarto poi gli è veramente attaccato vediamo se tenterà di soppassarlo in scia ci proverà sicuramente si stacca attenzione ruota 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 all'interno ci prova e si prende qui la terza posizione quindi torna un quarto quindi ha già perso tre posizioni rispetto alla partenza peccato perché magari anche in maniera inaspettata quindi vedremo anche lui che cosa attuera come strategia per cercare di ripendersi quella prima posizione che fosse in qualità sì decisamente impattante l'avvio per le due Red Bull rapide sul giro secco per il momento questi primi due giri a pieno carico sono stati molto molto complicati vedremo quando si inizierà a fare i pass ecco tutto sommato il primo giro può anche essere un po' problematico piloti che cercano il bilanciamento della vettura giocherellano un po' con il bilanciamento proprio anche la ripartizione della frenata quindi potrebbe starci che qualcuno è partito con più calma forse troppa calma quella di Gecko Driver è davvero un peccato che adesso si trovi in ottava posizione soprattutto relegato dietro a un River che non sembra riuscire a scrollarsi da davanti ai suoi occhi un Aspaz stoico che per il momento sta lì in questa posizione fa davvero piacere vedere Paolo Nasonte un'altra figura storica della nostra community trovarsi per il momento tutto a suo occhio su questa vista ah grande robia ad Alex Pilotino a 13 eh speriamo che non abbia riportato sa feticar virtuale che cosa è successo? eh Roby è andato a tamponare per i detriti in pista si io l'ho visti all'ultimo perché ho girato la telecamera quindi ha lasciato completamente l'ala lì eh sì completamente liberta l'ala anteriore per Roby che quindi si provava a tornare ai box via libera per chi come Dio speriamo Alex Pilotino non abbia riportato dei danni al fondo perché si complica davvero tanto il GP quando si riportano dei danni ai sidepod al fondo DC ovviamente l'unico che partiva fuori da 10 chi come Dio è partita su gomma media molto bene termine in questo momento il regime di virtual safety car vediamo se qualcuno è riuscito a preparare una migliore in ripartenza cricolo è un abbastanza vicino di buzzo su ferro 87 si è veramente attaccato ragazzi si è veramente veramente attaccato vediamo se in dettagli sono passati in questo momento in scia attenzione ci starà ci proverà sicuramente o in una staccata è impossibile si ha passato comunque attenzione che pur Naspatz è partito bene è ripartito bene e Ferra ha perso ancora più tempo da Reus intanto sicuramente Matteo Puzzo proverà o in retinino o in una staccata a superare Ferra perché Ferra è ripartito veramente male e ovviamente anche in maniera inaspettata perché io stavo guardando e l'ho visto ripartire un po' male e non me l'aspettavo sicuramente peccato perché prima della safety car virtuale stava raggiungendo l'Euz per cercare di braccarlo e di prenderlo ma poi alla fine è arrivata appunto la safety car virtuale e non l'ha fatto quindi adesso Matteo Puzzo ne potrebbe approfittare essendosi avvicinato proprio a Ferra quindi vedremo questa interessante lotta proprio per questo secondo posto e allora primo strattone primo gong di rilievo sul cronometro dato da parte di Leuz nei confronti di Ferra fuori dal secondo eotto come detto in presenza di Ernesto un po' piantato ecco anche la ripartenza Fabio Ferracini leggermente largo invece Matti Puzzo in uscita da curva 1 ne approfitta tutto ciò Leuz per provare a scappare da questo serpentone che dalla seconda va fino alla settima posizione occupata da River include Ferra Matti Puzzo Dr. Wu Krikonen Naspaz e River Marathon un Naspaz che è ancora in zona di DRS ma non è uscito benissimo da curva 4 prova ad affacciarsi River Marathon in staccata abbastanza ottimistico trovare uno spazio in quel frangente era abbastanza lontano River costretto per ora ad accodarsi in questo T2 e T3 che si fa decisamente tortuoso e c'è pochissimo spazio a meno di una manifesta superiorità anche dettata da una gomma probabilmente più avanti vedremo quando le strategie anche in ripartenza da River Stigar si è attaccato lì si è girato chi come dio per questo c'è una maniera già là nel T1 e T2 ancora una volta la trazione in uscita da curva 7 sempre molto pericolosa si è staccato anche Matti Puzzo idem Krikonen si è un po' separato questo gruppo invece chi sta guadagnando è Dr. Puzzo Matti Puzzo che in questo momento è a 4 decimi quindi tra i 4 4 decimi e mezzo e i 3 e mezzo quindi palla in quel decimo tanto giro veloce per l'EUTS 1 ah Ferra subito Dr. Who tutti insieme 1, 20, 8, 123 mi sembra che se non sbaglio Ferra e Dr. Who sono separati da 5 millesimi di differenze sul giro veloce se non mi sbaglio di aver visto così con la corda dell'occhio però poi lo vedremo si ti confermo si ti confermo è attaccato a Matti Puzzo e appunto come dicevi tu caro caro Raffaele Matti Puzzo questo momento si è un po' distaccato da Ferra ma anche Ferra si è un po' distaccato attenzione a River abbiamo visto River all'interno di Naspaz entrambi in una manovra un po' birichina nello spostarsi in frenata nel coprirsi verso sinistra Naspaz River ha trovato un interno lo ha forzato poi sul cordone esterno manovra vigorosa ma tutto sommato ci sta per un River che sembrava non riuscire a trovare velocità sul dritto in questo modo invece favorendo la trazione uscita da curva 4 in salita alla 5 è riuscito finalmente a sopravvanzare alla McLaren di Naspaz adesso dovrà vedersela con Kiko Driver di colpo si era riavvicinato nella tornata precedente si è girato Mattipuzzo si gira si è girato Mattipuzzo mezzo di traverso peccato peccato è il cordone interno alla 12 credo anche in Bahrain si sia girato quando occupava posizioni nobili Lore esattamente e quindi comunque mi sono ordinato Torquo in questo momento è terzo quindi hai riuscito di salire un po' alla china leggermente ma vedremo poi ovviamente il suo passo per i successivi 27 giri che mancano alla fine di questo gran premio attenzione all'altra Red Bull su Naspaz Kiko invece è riuscito a portare a casa la manovra la sesta posizione nei confronti di Naspaz c'è fortissimo River nei confronti di Kiko vediamo River appunto si ci prova si ci prova all'interno in staccata proprio Kiko e Naspaz allo stesso punto il giro prima quindi ecco che River si porta a quarto con un bellissimo sorpasso staccata lì davanti sembra in difficoltà Leuz nel primo giro ha riuscito a scappare oppure ha trovato più fiducia più costanza nei tempi Ferra di colpo come detto in precedenza dopo il giro fatto dalla ripartenza della Virtua Safety Car aveva recuperato addirittura solo in un giro 8 decimi Ferra nei confronti di Leuz si era riuscito perché in queste due curve Ferra gli ha recuperato 3 decimi si 3 decimi quindi non si capisce come mai questa molla diciamo in questo intertempo dei decimi che un po' vanno un po' vengono quindi poi vedremo appunto le parole questa situazione sembra intanto dalla chat si chiamano che ti sentono leggermente basso se puoi provare ad alzare la sensibilità del microfono dalle impostazioni nel mentre noi se abbiamo Leuz e Ferra che vanno a concludere la sesta tornata iniziano la settima nel momento tutto regolare tra di loro vediamo chi potrà avere invece come si muove nei confronti di Krikoran che però a sua volta è la DRS si no niente ho visto Krikoran che arrivava a cannone la spazia intanto disegna delle traiettorie un po' più larghe in uscita da curva 1 Krikoran molto vicino al River Marathon sicuramente al tornantino potrebbe provare a tentare un attacco è molto bravo forse anche con un po' di short shift River Marathon in trazione alla 5 riesce a portare tanta velocità in cima Naspaz intanto anche lui si fa vedere negli specchietti di Kiko Trailer fa davvero tanto piacere vedere un Naspaz così arrembante intanto negli ultimi giugni sono arrivate anche un po' di penalità se io la e quella per Matipuzzo potrebbe essere assolutamente rimossa visto che è arrivata nel mentre che era per Prati a fare manovra quindi vedremo eventualmente nel Poscara abbiamo intravisto intanto un Krikoran e un Sparazzino Dicevo dipende eh sì R87 che sta cercando di andare a caccia di Leuz ma appunto non sto neanche io capendo questa questa molla di intertempi di vari decimi di distacco che aumentano e poi si riducono credo sia una diversa interpretazione del T2 sì anche io noto c'è anche io sì se poi ci faccio caso in effetti tutto poi appunto cambia nel T2 quindi probabilmente perderà lì però poi vediamo se adesso guadagna qualcosa sì di nuovo guadagna eh sì esatto allora sì grazie del suggerimento perché non ci avevo fatto neanche caso sì comunque sì proprio perde nel T2 e poi guadagna dopo quindi è proprio il settore centrale quindi oh si gira Matipuzzo tocca il cordolo interno a curva 1 c'è il panettone è già la seconda seconda girata per non chiamarle in altro modo di Matipuzzo allora la torre VIP splendida questa immagine in un frame in una singola inquadratura con River Marathon Creikkonen e Kiko Traver che sembrano stuzzicarsi ma aver trovato un minimo di equilibrio con possibile River che sta cercando di fare il passo provare a recuperare nei confronti un Dr. Wu che per il momento è un po' nella terra di nessuno lontano da 3 secondi e mezzo da Dr. Wu e con da terra pardon la coppia che si sta giocando a prima posizione e con più di 4 secondi di vantaggio proprio nel Triello prima citato con River Creikkonen e Kiko Traver vediamo come si muove Ferra nei confronti di Leutz perché personalmente ci potrebbe stare anche uno stuzzichio ecco da parte di Leutz nei confronti di Ferra siamo prossimi alla sosta il voler magari tentare di far andare avanti Ferra e poi effettuare l'Undercut per provare a scrollarselo di dos eventualmente con una gomma media che va rapidamente in temperatura e gira anche con tempi molto vicini a quelli della gomma soft tanto leggo dalla chat a raggio 98 ho fatto la guida ora sono dentro benvenuto me lo sono un po' perso non ho seguito questo discorso dalla chat e Krikkonen con Kiko un driver su cui dove vanno si esatto 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 oh che ci riprova all'interno Krikkonen forse si sono anche toccati no no Kiko che ha dovuto lasciare posizione perché è andato a passi 10 allora è solo è stato il mio punto di vista errato scusate la mia ci riprova urt ci riprova all'interno ci riprova all'interno attenzione vediamo se attraziona meglio sì ma intanto però Krikkonen non molla e quindi rimane quinto beh adesso c'è stato il contrario Krikkonen è andato molto oltre sul fantomatico verde della MotoGP attenzione che c'è una spazio dietro sì potrebbe approfittarne in effetti per una sesta e settima posizione d'orgoglio per questi due piloti che come detto durante la qualifica stanno cercando il loro equilibrio in questo campionato per il momento ridotto a 12 piloti ma che con la formula Open citando il discorso di raggio 98 dalla chat potrebbe tranquillamente ampliarsi ecco se si valuterà che il livello di determinati piloti nuovi non ancora ufficiali nei campionati insomma potrebbero entrare in questo campionato già la scorsa settimana si è corso un GP di Formula Open probabilmente nella prossima pausa ovvero tra tre settimane ce ne sarà un altro e ne arrivano poche per carità però con tre con quattro campionati da dover gestire la settimana purtroppo comprendo che è complicato per i nuovi trovare un po' di spazio Krikonen intanto largo a curva 1 sembra voler ritentare il sorpasso nei confronti di Kiko Driver belle manovra comunque per il momento lì al tornantino gli altri campionati tutti abbastanza educati tutti alla concedere il passo qui invece ho visto sia Naspaz e Krikonen muoversi un po' in frenata indurre ad un lungo anche il proprio avversario cercare di sfruttare tutta la pista in trazione Gagliarda questa Prime di solito parte in sordina invece questa volta si per il momento sono 11 12 con l'assenza questa serie Super Simo piloti però sembrano tutti belli ingarellati vicini e ingarellati anche lì davanti ancora Leuz e Ferra si appunto però questo dire e molla dei tempi tra Leuz e Ferra sta continuando quindi o Ferra appunto come dici tu Rafa tenterà un undercut su Leuz oppure tenterà di sorpassarlo però non so quando gli convenga perché poi stresserà se non troppo le gomme quindi vedremo poi che cosa farà però in questo momento potrebbe tentare forse si forse no no il retilino è troppo corto no io si fa solo vedere l'ho anche visto lavorare sul volante forse sta anche risparmiando qualcosa può anche essere sicuramente anche perché siamo un terzo di gara può anche essere prevedibile comunque il dottor fu mi sordina terzo in questo momento e si sta cercando un po' di rifare per la pessima partenza quindi tutto sommato vediamo anche il bicchiere mezzo pieno tanto di nuovo Matti Puzzi è un testa coda questa volta all'ultima curva purtroppo un testa coda per settore ha compiuto il pilota della Ferrari che torna in box e questa software ormai era completamente bruciata quindi vediamo se riuscirà a trovare una gomma per almeno portare la vettura al traguardo prenderanno tutti i punti da quest'anno lo sapete dalla chat il sistema di punteggio ampliato invece che 10 piloti è 12 semplicemente gli ultimi 4 prendono 1, 2, 3, 4 punti e poi sistema classico della Formula 1 per proprio incentivare i piloti anche se hanno una gara difficile comunque a portare a casa un punticino ed eventualmente anche quello del giro veloce essendo in 11 questa sera sia Mati che Robi potranno però concorrere anche all'assegnazione del giro veloce presentando il proprio giro sul forum insomma la maggior parte dei ragazzi che ci seguono dalla chat conoscono le modalità intanto Ferra i box ecco che Ferra 87 sia i box esatto proprio in questo momento quindi tenterà sicuramente l'undercut sull'Euz almeno da quello che avevi previsto tu Raffa quindi hai visto molto bene forse è stato l'ultimo giro un po' di sofferenza per Ferra perché l'avevo vista appena fuori dal secondo con l'Euz mentre negli ultimi 3-4 giri era comodo sui 5-6 decimi quindi forse ha cercato di prendere un po' di ossigeno e anche per capire magari che proprio cosa faceva l'Euz è bella magari non è così è tutto dettato dal caos però personalmente mi piace questa lotta anche strategica tra i due piloti si è fermato anche River e ha montato l'hard di differenza di Ferra con la media chi o dove arriva chi come Dio con River Marathon con chi come Dio che ha la gomma in temperatura River è quasi costretto a doversi difendere dovrebbe riuscire a stare davanti che riguarda intanto arrivano altri 3-3 River Marathon quindi tenterà di andare fino in fondo dato che ha messo la gomma dura molto probabile si hanno già fatto 11 giri può tranquillamente arrivare anche con la gomma media un tenesimo testa coda sembra l'ultima curva per Matti Puzzo sopravvanzato adesso da Roby purtroppo serata difficile adesso in casa Ferrari vediamo come si muove l'Euz questo sicuramente tornerà in box in questo momento più da il Last of Martin allora vedremo forse troppo forte tratto precisissimo l'avevo visto arrivare lanciato in ingresso pitlane molto preciso bravo tornerà in box anche Doctor Who vedremo quale c'è la scelta dello pneumatico con l'Euz che non si fida e va sull'hard Doctor Who pronta la media e vediamo questa scelta poiché l'anteriore sinistra di solito è sollecitata su questo tracciato non è però così abrasivo quindi una gomma media si potrebbe si può arrischiare quella di Leuz è una scelta per andare calmi però adesso dovrà difendersi da un Ferra che arriva lanciato ma resta dietro ed ha anche perso era sul secondo prima della sosta adesso un secondo e otto vediamo dove rientra Doctor Who anche lui era solitario prima della sosta resta lì vediamo River Marathon davanti a Krikonen Krikonen quasi si gira la tiene riuscita a tenerla però si infila Kiko Medio attenzione perché in questo momento vedevo Ghost Krikonen però è arrivata una ruotata tra Kiko Medio e Krikonen speriamo senza danni per ambo i piloti un po' di valser dei pitstop che per il momento piazza non lì davanti Kiko Driver e Naspaz con questa gomma soft ma si devono ancora fermare ovviamente intanto vediamo che Matti Puzzo ci prova su F1 e taglia a Roby attenzione ci prova all'interno quindi si porta in decima posizione speriamo che ovviamente poverino si giri di nuovo è arrivato sottissimo attenzione a Ferra attenzione a Ferra la gomma in temperatura rispetto all'hard fa tanto torna in box invece Kiko probabilmente farà lo stesso anche Naspaz per riconcedere la testa del serpentone per la verità abbastanza separato da una decina di giri vediamo come si muove Ferra questo sicuramente deciderà di andare ai confronti di Leuz che si difende all'interno quasi andando verso il muretto poi concede l'esterno e cuno a uno appagliati due vicinissimi splendido il duello ancora resta lì Leuz quasi ruota ruota splendida la difesa messa su da parte di Leuz e riesce anche a chiudere bene alla tre poi tra azione della quattro ennesima zona di DRS potrebbe ancora una volta portare all'attacco Ferra che è abbastanza lontano per la verità a meno di una staccata molto ottimistica nelle retrovie si è mosso anche Naspaz o ha commesso un errore perché è abbastanza lontano avevo visto uno scambio di posizioni forse Alex Pelotino tornando ai box perché ha zero giri sulla gomara quindi si è fermato anche Alessandro Capozzo i piloti che si sono fermati quindi sono tutti andati sulla gomma media fatta eccezione per Leuz River Marathon proprio Alex Pelotino in pista c'è ancora Kikotra con 13 giri di gomma media ma deve ancora fermarsi davvero bella la lotta tra Leuz e Ferra si è interessante perché ovviamente comunque si è girato Robby Robby quindi ovviamente ora dipende se la posizione è comunque è interessante molto molto interessante e Ferra 87 un po' di tutto approvato l'Undercat su Leuz ma evidentemente non vi ha attenzione di nuovo si fa già tutto sulla destra quasi non voler concedere la scia a Leuz se la deve andare a ritagliare Ferra a sfiorare il muretto dei box Ferra questa volta vorrebbe riuscire in una manora più rapida si sono toccare si sono dritto ancora lì ruotata a contatto si agganciano che disastro a Leuz ha rotto l'ala il flap anteriore sinistro quindi non ha attenzione che a Ferra potrebbe avere danni ai satpot molto probabilmente è contato su dritto lotta anche tra Kikko River Marathon in lotta attenzione che bello attenzione intanto che si giunge anche Klikkonen che ne approfitta di questa situazione quindi si sta codando proprio a Kikko Driver vi correggo che Ferra ha anche anche lui danno l'anteriore e si spreca le mani di Dr. Wu che a due secondi e tre ovviamente da un Leuz si dovrà fermare e Ferra sono abbastanza sicuro che il danno l'abbia riportato non tanto per il contatto sul dritto ma successivamente Leuz si è completamente avvignato alla posteriore destra della Mercedes è saltato lì sul panettone c'era pochissimo spazio giro precedente sono stati bravi questa volta anche la toccatina sul dritto è stato un po' segno di nervosismo riesce intanto Dr. Wu nel sorpasso confruttivo Leuz che mestamente si sta preparando a tornare box vedremo il ritmo di Dr. Wu per capire quanto sta perdendo Ferra non solo a causa del danno ma anche di un eventuale ovviamente non il danno all'ala ma di un danno al fondo ai side pod la zona è quella ti dico solo che l'ultima curva ha dovuto parzializzare e allora il danno c'è sicuro e soprattutto manca la fiducia adesso l'interazione alla 5 è uno dei punti dove si farà più fatica perché bisogna portare tanta velocità in uscita intanto chi come dico passa da una spazio attenzione e si porta in seconda posizione no è una Red Bull ma è quella di Pico Driver d'ora che non si sta capendo nulla in questo momento scusate ma perché si è un attimo si è impallato non so come la classifica scusate colpa mia è un rapido recapo si è fermato Leuz quindi la classificazione è un po' ridimensionata Dr. Wu si sta avvicinando nei confronti di un Ferra che ha un danno c'è tanta lotta tra Kiko Driver e Crigone che attaccano un River Marathon poiché hanno una mescola di vantaggio nei confronti del pilota dell'Alpine scambio in casa Ferrari con Matipuzzo che sta trovando un minimo di equilibrio in questa seconda parte di gara con lo scarico del carburante va sopra avanzare con un paio di squadra Alex Pilotino come detto Kiko Driver sta cercando una mossa sarebbe anche importante per il cambiamento costruttore in confronti di River perché questa media può arrivare tranquillamente fino alla bandiera scacchi 17 giri può farli ancora senza nessun problema visto lo scarico del carburante Doctor Who arriva a 2 secondi e 7 8 decimi recuperati solo nei primi due settori si potrebbe preannunciare anche una possibile doppietta a Red Bull lo dico un po' a denti stretti visto che spesso di gufate ne ho fatte speriamo di non farle troppe in questa stagione però la possibilità è lì sarebbe un peccato non coglierla vediamo se Kiko Driver questa volta riesce a sopravanzare il River e difende subito anche all'interno alla staccata della 4 attenzione Krik stava negli scari di River River di nuovo esce fortissimo la lotta non è finita ragazzi Krik e di nuovo esce attenzione se ci provano si fa solo vedere ma attenzione che escono entrambi quasi abbaiati con attenzione tanto Krik che comunque si è avvicinato veramente molto che ne sta approfittando di questa situazione e vediamo se tenta anche lui no rimane solo a codato ma comunque è sempre lì quindi bello questo trio bella questa lotta molto 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 entusiasmante che ovviamente tiene tutti in colla tra gli schermi intanto però Ferra 87 è primo con Dr. Gu secondo che quindi ovviamente Dr. Gu come ho detto all'inizio starà cercando e sta cercando di recuperare quella prima posizione perduta proprio in partenza e il bottino si fa ghiotto anche per Krik non riuscire a soranzare River restare accudato a Kiko Driver gli potrebbe consentire di andare sul podio visto che per Ferra ancora metà gara essenzialmente è tanto tanto lunga poca fiducia soprattutto nel mezzo in ciò che può fare specie nel T2 e T3 dove bisogna guidare tanto si sposta intanto sul dritto Kiko Driver un po' di onde bandiera giocata nel T3 per Naspaz che è andato in testa però riparte in settima posizione considerando tutto per Naspaz arrivare fino alla bandiera scacchi considerando Kiko Medio si deve fermare lì davanti l'atmosfera è molto calda si potrebbe prospettare addirittura uno top 5 per Paolo Nasonte che correndo dal 2013 che mandaggia però prende 3 secondi di penalità correndo dal 2013 ha sempre portato punti nelle sue stagioni dite a Naspaz che si è divenita dall'ersattivo sarà interessante vedere anche la risalita di Leuz per capire fin dove potrà arrivare a 11 secondi da Naspaz poi altri 13 per trovare i piloti in lotta per la top 5 mentre il Dr. Wu è quasi in zona dei DRS nei confronti farà che finora se ha un danno oltre ovviamente al danno all'ala se ha un danno ai sidepod sta facendo un mezzo miracolo già a riuscire a girare uno non gira eh sì infatti dall'esterno ho visto il sottosterzo sì sembrava come la facevi tu martedì scorsi quelle poche volte che l'ho fatta se l'ho fatta più o meno così bruttissimo che colpa arrivato a Dr. Wu nei confronti di Ferra per il momento lontano soprattutto visto che curva 1 non si stacca così forte potrebbe essere la staccata e il tornantino di curva 5 un possibile punto d'attacco alla torre VIP per Dr. Wu splendido questo sinistra in salita c'è Eco c'è Leus che era di traverso ragazzi stava andando quasi di traverso e l'ho visto più in diretta in live e confermatemi ragazzi confermatemi ma Leus non ha ancora cambiato l'ala o sì perché non mi ricordo no l'ha cambiata si è fermato ha messo le medie e sta recuperando se faceva il giro veloce con l'ala rotta io poggiavo il pad arrivederci è andato a questo rapido recap per quanto riguarda le penalità 6 secondi per Krikonen Naspaz e Matipuzzo 3 per Kiko Medio che si è appena fermato in box ed ha montato Gommard e Robby in undicesima ed ultima posizione molto vicino Kiko Medio con Alex Pilotino appena uscito in lotta questa Gommard fredda potrebbe portare Alex Pilotino all'attacco che tenta un incrocio zona di DRS a favore allora va il pelota della Ferrari nei confronti di quello dell'Aston Martin sale in nona piazza ma resiste all'esterno Kiko Medio che ha chiuso senza fare troppi complimenti forse Alex Pilotino non è riuscito anche a trovare un punto di cordo ottimale vediamo 71 manovra d'orgoglio Ferra rischiando praticamente tutto ma non ne varrebbe la pena vista la posizione sto occupando in questo momento il suo diretto rivale in campionato settimo ovvero per Leuz no mi aspettavo volevo uscire forte qui invece no dimmi vincito attenzione che sta arrivando pure Kiko eh sì 4 e 7 ha staccato River e l'ha lasciato a Crigolano in pratica e sta cercando di ricucire lo strappo da Ferro allora il box da Catanzaro con Stefano Ganino inizia si fa l'aria anche lì pesantina si recupera ma occhio che è tanto problematico 13 giri per recuperare questi 4 secondi e 4 per Kiko Driver mai andato a podio ovviamente alla sua seconda stagione di Prime League come pilota ufficiale l'anno scorso del desordio è mai andato a podio si è avvicinato tantissimo Cricone scusate perché ha quasi toccato la gomma posteriore destra di Kiko Driver è ristaccata l'ha quasi toccata meno male che non è successo nulla comunque bella questa lotta per questo terzo posto molto 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 viva molto molto bella 3 secondi per l'out è complicato un poco questa sua risalita visto che lì davanti tutto sommato sono puliti quindi anche arrivare sotto obbligherebbe il pilota della Ston Martin a compiere un sorpasso Kiko sta impazzendo nei confronti di River che è sempre rapido sul dritto nel guidato gli arriva sotto come detto in precedenza da Sebastiano ma poi non si può concludere Baniera Gialla è una prova comunque importante questa per Leuz terza gara la sua prima stagione quindi arrivare trovare equilibrio arrivare e prendere questi punti potrebbero essere importantissimi alla fine del campionato quindi deve trovare un minimo di equilibrio per arrivare fino al traguardo e guardarsi in effetti anche da Matipuzzo e gli altri che girano più lenti con un po' di difficoltà in questo GP rispetto a Leuz che lo ha guidato per le prime dieci tornate però sono sempre lì pronti ad approfittare di una difficoltà del secondo pilota in classifica piloti 3-1 Kiko bella anche la visuale dall'alto ecco si può apprezzare quello che dicevamo di queste ultime due tornantoni splendido il tracciaio di Portimano quindi deve spingere forse più di quello che ci sta facendo anche se non so quanto sarà voglia rischiare ma ovviamente ci sta provando e non è facile perché ovviamente Diver Marathon sta resistendo anche molto molto bene nonostante tutto quindi molto molto bella questa lotta come ho detto l'occasione è chiotta per Krikonen non è mai ovviamente anche lui è la sua seconda stagione è una prime di ragazzi che tutto insomma abbiamo conosciuto l'anno scorso ma che non sono magari riusciti a brillare troppo ovviamente poi la salita di categoria dei campionissimi dei primi cinque della classe questi piloti stanno trovando un po' più anche di smalto di insomma stare lì occupare quelle posizioni aiuta nonostante sia più stressante come cosa ma aiuta anche a non commettere questi errori Krikonen l'anno scorso non è mai riuscito a conquistare nemmeno la top 5 in questo momento già lì l'ha portata però dovrebbe riuscire a sopravanzare River e dargli anche tre secondi se vuole provare a costruire qualcosa di più vale lo stesso per Kiko Driver che si è arrivato sotto i due secondi da ferra ma ha tre secondi dimmi Krikonen ne ha sei secondi e Kiko ha appena presi tre secondi quindi deve recuperare i tre c'è su un secondo e otto più altri e mancano di riuscire però questo sorpasso tentato che sta tentando da qualche giro Krikonen il suo River Marathon sembra un'agonia che non finisce perché non si sa quando lo potrebbe superare perché appunto ci sta provando ma è sempre lì troppo distante adesso addirittura il distacco è arrivato a un secondo e mezzo il contatto tra Alex Piotina e Kikomedio ha dato giro veloce Leutz 1-19-649 li vedevo vicini da un po' da quando Kikomedio ha fatto la sosta danni? sì all'anteriore leggero poi oltretutto Leutz ha fatto giro veloce anche perché davanti in questo momento non ha nessuno quindi è libero strada libera vedremo magari il suo passo per questi ultimi dieci giri e se anche se impossibile tentare di recuperare su una spazza anche se la vedo veramente veramente dura o Leutz di traverso però comunque peccato per Leutz che è questo momento settimo che si è girato quindi poteva fare meglio sicuramente in questa settima posizione anche se come dici tu Raffa è comunque una bella prova di forza ma proprio peccato per l'errore che fa sotto al secondo allora Kikodrava nei confronti di Ferra inizia a definirsi sempre di più al posteriore della Mercedes davanti al pilota della Red Bull che potrebbe arrivare con un attacco eventualmente alla 5 e con curva 1 e 2 non esagera nemmeno con i cortoli sa che comunque la manovra nei confronti di Ferra potrebbe essere relativamente semplice e poi deve impegnarsi nel dargli quei 3 secondi cioè abbastanza vicino qui attenziamo che Ferra difende il centro della pista attenzione se ci prova sì no si fa solo vedere scherzato scusate è sempre la mia prospettiva che è sbagliata perché non si vede mai bene come può venire sul passo però comunque si è fatto vedere quindi attenzione a che cosa potrebbe succedere da qua da qua a poco quindi da qui a breve e questi 3 decimi che sono veramente pochi vediamo se ci proverà in staccato o se aspetterà direttamente il rettilineo ma è forse più probabile che aspetterà il rettilineo dove ti terrà proprio l'assalto questa seconda posizione che quindi dovrebbe prospettarsi magari come dici tu Raff una doppietta Red Bull dovrebbe perlomeno dovrebbe eh sì adesso deve passarlo e poi dargli questi fantomatici di 3 secondi non prenderne altri e e vediamo che anche River comunque è lì a 2 secondi da Ferra è un Ferra che dovrà guardarsi tanto negli specchietti anche una volta che sarà passato Kiko eh sì è vero arriva proprio Kiko Driver arriva metta il recce e passa e quindi lo sorpassa in maniera anche tranquilla comunque all'interno e che si porta in seconda posizione altra testa coda per Maticus ah uscita dalla 7 e allora vediamo adesso come si muovono le Red Bull lì davanti 25 siamo al giro di 33 in corso con Doctor Who vantaggio di 4 secondi e 2 nei confronti del suo compagno di scuderia per il momento sarebbe un clamoroso 1-2 Red Bull ce l'aspettavamo viste quanto detto in qualifica con il ritmo così vicino tra di loro non però dopo il primo giro che li aveva visti sprofondare in classifica poi un contatto proprio tra Ferra e Leoz i due piloti in lotta per il campionato piloti ha estromesso sicuramente Leoz dalla lotta per la top 5 Ferra è ancora lì ma con un pesante danno molto probabilmente ai side pod o al fondo della sua Mercedes e un danno che invece lo vediamo abbastanza leggero ma comunque presente alla sua all'anteriore ciò ne compromette la percorrenza del T2 un T2 nella quale Kiko Traver riesce a scappare scurrarsi di dosso Ferra e River è arrivato a 1-1 da Ferra e si è a sua volta invece scurrato di dosso un Krikalan che forse ha anche ceduto con le gomme si è messo su un ritmo più comodo per portare a casa questa sua eventuale prima top 5 in carriera River Marathon anche lui sotto al secondo con la gomma hard attenzione non è finita poiché Ferra lì davanti quasi quasi potrebbe permettersi di lasciare andare River sperare che magari succeda qualcosa in una battaglia con Kiko con un Kiko che potrebbe forse cedere negli ultimi giuri con la gomma media rispetto all'hard di River dubito non è impossibile ma non è neanche così probabile che ha dovuto passare River poi ha ripreso Ferra oh River intanto un Kiko un River Marathon si esatto che quasi tocca appunto Ferra ma non è successo nulla comunque interessante questa doppietà Red Bull perché appunto come ho detto all'inizio Dr. Wu ha fatto una brutta patenza una gara in sordina adesso è primo quindi pian piano tranquillo con il suo passo ha recuperato ha recuperato posizione adesso quindi è primo e ha anche approfittato delle sfortune a lui appunto come quella di Ferra che ha probabilmente danneggiato come hai detto tu i sidecords quindi gara in sordina ma comunque importante c'è attenzione c'è il piedino tremolante alla Horner in casa Red Bull per Stefano Canino ingegnere proprio di Dr. Wu e Kiko Driver seguiamo River Marathon all'attacco di Ferra 87 esatto sì in questo momento proprio apre l'ala quindi River Marathon vediamo se ci prova sì assolutamente all'interno si butta e quindi si porta in terza posizione quindi un Ferra abbastanza in difficoltà purtroppo peccato veramente peccato quindi ovviamente i due protagonisti iniziali della gara Ferra 87 che sono in difficoltà non credo non credo scivolerà oltre Ferra visto che dietro di lui c'è il suo compagno di scuderia a fare eventualmente da scudiero da un Naspatz che però è lontano 20 secondi intanto sento un piccolo ritorno della mia voce occhio ai volumi grazie a tutti e diciamo Naspatz è lontano 20 secondi da Kiko e poi a sua volta Léoz tra vari testacode e difficoltà sta risalendo su Naspatz per provare almeno a portare 8 punti dalla causa Aston Martin 2-5 andando per il momento Ferra da River Marathon quindi ancora mezzo secondo con 6 giri al termine sembra farcela però vediamo adesso River che potrebbe eventualmente rovinare la festa in casa Red Bull scusami intanto in chat di Twitch si affacciano i primi tale scout cosa succede? Cosa succede? Le bandiera gialla che cosa è successo? si è girato Naspatz semi testacode in trazione immagino è passato Léoz forse testacode ah Alex Pilotino alla 4 sembra sano nonostante era molto vicino alle barriere sotto la lente ingradimento ah cercano reclutano i ragazzi del film bravi bravi si stanno tenendo doccia Mati glielo auguro da un lato ma non dall'altro perché implicherebbe farne troppi di testacoda quindi siamo sul filo così come sul filo ferra nei confronti di River un frappere un giro anche in mezzo aveva tenuto il DRS nei confronti di River Marathon ma adesso qui nel T2 dovrà credo per forza sventolare la bandiera bianca rendersi e dover definitivamente scendere da questo podio un podio che per il momento sarebbe Dr.Woo River Marathon Kiko Driver visti 3 secondi di penalità per Kiko Driver e comunque volevo dire una cosa di Ferra 87 che nonostante i danni e nonostante tutto comunque sta cercando di essere attaccato al podio più che può quindi veramente un'ottima gara nonostante tutto da parte di Ferra 87 che perlomeno ci prova quindi chapeau e Kiko sta anche recuperando nei confronti del suo compagno di squadra 3-8 3-9 quindi non vorrei essere per arrivare una comunicazione in casa è rischioso ma provare a tirarsi nel DRS adesso a 3 secondi sarebbe la scelta più rischiosa ma per provare a fare concludere e capitalizzare definitivamente sotto a badire a scacchi una clamorosa risalita Red Bull dopo il primo giro e sarebbe anche bello per celebrare insomma questa livrea speciale che ci accompagnerà ancora per due GP qui su Formula Italian Team in teoria poi se Codemaster prolunga vedremo sarebbe bello anche l'arrivo in parada per loro due però poi accelero io o accelero tu è un po' complicato Ferrari Austria 2002 se non ho terrato un barrigallo Schumacher dovevo dirivere in uscita dalla 7 avevo guadagnato mezzo secondo su Kiko e non è perso i 7 vediamo ancora 4 giri con un Ferrari che comunque resta lì in attesa sperando che possa capitare qualcosa per il momento comunque guadagnerebbe punti ma sono curioso di Doctor Who vado a dare un attimo uno sguardo in classifica perché lui a quarto andrebbe a 45 quindi eguaglierebbe il punteggio di Ferra ma Ferra ovviamente prende punti quindi non dovrebbe cambiare troppo la situazione potrebbe esserci il sorpasso da parte di Doctor Who nei confronti di Leuz intanto c'è Robby che pagava perché si è mezzo girato ah ok no così per dire ci sta ci sta e allora ennesima volta con il DRS Ferra è riuscito a riaprirlo nei confronti di un River un po' in difficoltà in questi ultimi due giri eh sì esatto ne sono accorto anch'io adesso che me lo dici quindi è interessante questa lotta per il terzo posto è che comunque se Ferra 87 riuscisse a ottenere un podio sarebbe anche un podio in un certo senso clamoroso proprio per i danni che ha subito quindi però sarebbe anche una bella risposta sicuramente ma non so come ridere per gli ultimi due giri attenzione che Krigonel ha commesso un errore arrottando Ullala ah perso 6 secondi da Leuz sì diciamo rispetto al precedente aggiornamento quando c'era Naspatz ha girato 27 e 3 il giro precedente mentre prima c'era su 22 e mezzo tra l'altro un quadro Krigonel cioè la classifica solo su Krigonel ma mi mostra una Red Bull ok gioco no per un momento è un attimo scapucciato poi sono andato a un board siamo adesso con Krigonel che sì anche del live timing potete notare che è un danno decisamente più pesante rispetto al suo caposquadra è una stampista eh però due giri per provare a portare a casa questa top 5 vediamo il livello di penalità eh deve anche riuscire a stare 3 secondi davanti a Leuz visto che lui ne ha 6 metri e non c'è 3 3 piloti senza penalità quindi anche questa interessante in ottica classifica è anche campionato ovviamente per le penalità non dovrebbero cambiare troppo le posizioni se non forse lì davanti e con Krikonen e Leuz perché tutti gli altri sono abbastanza separati e potrebbe ah Krikonen in trazione alla 4 occhio perché altro tempo perso sono due ciri per un miracolo per Krikonen che però si sta complicando in una maniera molto rapida in effetti primo errore la gomba si scalda il danno all'ala adesso molto interno al tornantino potrebbe essere arrivato un avviso in trazione scondola non è facile restare lucidi anche questa una prova così come per Leuz per provare a maturare bisogna trovarsi ecco in queste difficoltà per poi magari capire come muoversi continuare a sticoli davanti tra Dr.U e Kikodriver con un Kikko sempre sul filo con River ha perso di nuovo mezzo secondo ha avuto il DRS questa volta nel doppiaggio di Alex Pilotino si eh quindi occhio anche ai doppiaggi perché potrebbero essere ho visto che andava oltre curva però è un tempo di tre secondi crolla il castello in casa Red Bull è arrivato più forte proprio con il DRS in Coro 1 è andato largo questi sei secondi quasi lo mettono fuori dal podio con Ferra davvero questione di decimi mentre River Marathon a meno di un disastro per un momento ho tremato visto che era apparsa la grafia del controllo gara a meno di un disastro dovrebbe riuscire non solo a restare sul podio ma anche salire un altro gradino quello del secondo posto per carità è un peccato per Kikko ma è importante adesso arrivare al traguardo chiudere questo podio sicuramente Stefano Canino cercherà di tenere gli animi calmi e soprattutto anche alti poiché ancora un giro su una pista che è molto pericolosa ecco del distrarsi sì assolutamente però è una pista molto molto bella che per la prima gara che ho commentato che sto commentando ha regalato anche delle belle emozioni e delle belle battaglie quindi anche poi una soffressione della classifica inaspettata quindi belle belle emozioni un ultimo giro in questo momento va ad iniziare Doctor Who con un po' di doppiaggi lì davanti attenzione anche a Claudio arrivare più forte per carità a margine però arrivare più forte prendere una penalità anche per lui diciamo andrebbe a sporcare una splendida gara di testa ti dico che non ha neanche un avviso bravissimo ma un po' me lo aspettavo l'anno scorso mancava tutto sommato la velocità cronumerica però sempre molto pulito anche nei duelli in questo momento stiamo anche vedendo un raffronto per quanto riguarda l'usura dell'opnomatico quel giro in più si tramuta in un 7% in più sull'anteriore e sinistra per Doctor Who nei confronti del suo compagno discutere a Kiko Traver che sta provando con le unghie a portare a casa questo podio anche a guadagnare qualcosina in più nei confronti di un river perché adesso ci vorrebbero un secondo e mezzo per dire la John Nel T2 per un Alpine che fa in testa coda era quella di Robby che stava un po' creando disturbo a un Doctor Who che è impegnato in una fase di doppiaggio nel corso di questo suo ultimo giro Robby si era proprio lui di andare in testa coda visto che perde la posizione nei confronti di Alex Pilotino allora Claudio Chiassoli per l'ultima volta al T3 nello splendido catino di Portimao su Rollercoaster è stato veramente ricco di emozioni questa gara quindi il pilota della Red Bull che ha la sua ventunesima presenza in Prime League ha la sua ventunesima presenza ovviamente anche qui su Formula Italian Team la sua seconda stagione e ecco che quindi Doctor Who in sordina nonostante la brutta partenza va a vincere il Gran Premio di Algarve qua nella Prime League questa sera con se non sbaglio anche Kiko Driver secondo e forse lo mantiene no per due decimi no è sceso terzo peccato mi aspettavo una doppietta Red Bull e invece no peccato comunque Kiko Driver al terzo quindi comunque la Red Bull sul podio quindi va comunque bene quindi un bel risultato importante skip a Krikonen e Leuz per favore Krikonen e Leuz ma c'è anche un discorso di penalità che potrebbe portare e garantire quasi sicuramente il quinto posto a Leuz sono successe un po' di cose probabilmente in quest'ultimo giro arrivano in volata Leuz e Krikonen proprio in volata Krikonen resta quinto molto molto bello aveva preso penalità a Leuz ha preso penalità all'ultima all'ultimo giro è in uscita da curva 1 e allora ottima anche la casa Mercedes con Krikonen che per la prima volta in top 5 riesce a difendersi in questo risultato nonostante degli ultimi giri veramente drammatici ha praticamente perso 15 secondi nei confronti di un Leuz che stava tentando una risalita vittoria quindi per Doctor Who davanti a River Marathon e Kiko Driver poi Ferra Krikonen Leuz 27 Naspaz Matipuzzo che lo aspettiamo sotto il traguardo poi hanno già preso bandiera Alex Pilottino Kiko Medio e Robby tutti quanti ovviamente soddisfatti tutti quanti in zona punti è sicuramente un po' di rammarico in casa Red Bull perché River era veterinamente crollato nell'ultimo giro ha perso di colpo più di un secondo perché prima era 4 e 2 quando mi sono spostato diciamo del T3 per Doctor Who gli ultimi due giri sì c'è stato il terzo di Robby si è distratto stava pure lui per perdere la vettura in trazione dalla 7 e allora festeggia Doctor Who arrivano i complimenti anche da uno dei massimi interpreti della Prime League dalla chat non dico il nome perché è un po' timore però sapete ecco chi ci seguirà domani nella replica su Youtube non saprà da chi sono arrivati questi complimenti chi ci segue in questo momento su Twitch ci sta seguendo e si magari appresta a farci pervenire le proprie domande che faremo ai primi tre classificati qui tra pochissimo con noi nel Parti Post-Gara potrà leggere chi ha fatto questo fantomatico complimento non il dottore lungo però in effetti di dottori ce ne sono tanti in questa Prime noi facciamo un rapidissimo break è il tempo di avere qui in parti con noi i primi tre classificati poi torniamo proprio per le interviste post-Gara di questa terza gara con la Prime League stagione 2021-2022 grazie a tutti per la prima qui che è il momento che che è il momento che che molto bene eccoci tornati in diretta ci hanno raggiunto intanto Kiko Driver e Doctor Wu buonasera ragazzi buonasera vi ricordo se avete eventualmente il consentito sempre mi raccomando che vogliamo sentire queste parole dei primi tre classificati ci ha raggiunto anche River Marathon e allora iniziamo proprio da Doctor Wu Claudio finalmente prima vittoria prima vittoria prima pole position finalmente pole position diciamo che non me l'aspettavo perché comunque di mio giravo sul 27 e mezzo quindi pensavo che almeno un 27 e 2 sarebbe stato fatto invece vabbè ci ritroviamo primi partenza ho detto parto prudente per non far danni perché volevo almeno stavolta tenermi il podio non come la scorsa weekend con lo spin direi che più o meno è andato come doveva andare un po' di fortuna penso che un contatto là davanti non ho idea a vedere il passo di ferra direi di sì e niente poi abbiamo tenuto un bel ritmo diciamo che poi io ho gestito tranquillamente perché comunque il vantaggio erano i miei compagni di squadra avvisi ne avevo solo uno quindi ero abbastanza tranquillo molto bene grazie mille allora veniamo al secondo posto invece di riverman Christian buonasera ciao buonasera a tutti e niente nonostante c'erano due settimane di pausa io mi sono allenato pochissimo e infatti non aspettavo niente da questa gara in qualifica guardando i tempi potevo essere in pole e poi in gara boh mi sa che mi si è bagato cosa delle gomme perché avevo il primo giro già all'8% di usura nonostante ho fatto solo un tentativo e difatti i primi giri non riuscivo neanche a andare e niente ho fatto delle belle lotte con Naspaz con Krikonen insomma mi sono divertito ho visto che Ferra e lui ci sono stati in contatto con loro tra di loro e niente sapevo che Ferra aveva la lotta però avevo detto ma dai cerchiamo di restare davanti e dopo per fortuna Krikonen ha preso altri tre secondi che erano diventati sei e niente sono riuscite volare al podio al secondo posto che non male come come risultato dopo che non aspettavo niente da questa gara qua molto bene grazie mille e infine chiudiamo il podio purtroppo ha dovuto cedere un gradino per le penalità diciamo è stata l'unica macchia per una grande festa in casa Red Bull purtroppo quelle penalità Enrico che è arrivandoci più forte immagino il TRS Chicco perdonami non ti sentiamo devi attivare il consenti sempre la condivisione audio del party cioè io ti ho sentito però non ti hanno sentito ragazzi in live senti sempre ok ok vediamo se dovremmo esserci ora ok prego dicevo sì un grosso ramarico perché via per un o qualche centimetro altri tre secondi che non sono riuscito ad ammortizzare nell'ultimo giro per due decimi e sfumato il secondo posto però primo podio dopo un anno di partecipazione dai posso essere soddisfatto anche vedendo la partenza come era andata come si era messa non ci speravo proprio contenti a tre quarti via poteva essere una doppietta però ci portiamo a casa questo primo e terzo posto eh sì come dicevo anche in qualifia siete sembrati il team più ravvicinato soprattutto nelle piste tecniche perché Baren tutto sommato è un po' stop and go Cina invece eravate molto vicini ed è una pista dove si guida prossima settimana se vai a Spagna altro circolo molto tecnico cosa ti aspetti lì? eh Spagna è una pista sempre un po' difficile perché sarà fondamentale secondo me più che in altre in altre piste l'assetto avere un buon assetto che si consenta di spingere e di fidarti della macchina e non sono mai andato molto bene storicamente speriamo che quest'anno il trend si inverta molto bene grazie mille Cristian anche te per la Spagna ogni tanto è stata amica soprattutto un brand nel 2019 sì grazie al buon al buon oddio è l'unico ecco lui è anche come te sì 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 ecco sei fatto tra l'altro grazie al buon luni e niente insomma speriamo che vada meglio perché qua io non ci ho capito niente e devo ancora capire come si fa curva 8 qualcuno me la spiega perché mi stavo per girare e la vedevo ogni giro male curva 8 molto bene grazie mille Claudio anche per te per la Spagna e un tuo collega dottore ti domanda come festeggerai non preciso la domanda che ha scritto cose però come festeggerai questa vittoria che in teoria vabbè aspettiamo risultati di Pasquara ma non dovrebbe mutare troppo visto che si controllava poco aspettiamo ma testa bassa sulla Spagna che sarà una gara dove dovrò giocare in difesa perché non è mai stata mica l'anno scorso è andata male e diciamo quest'anno non l'ho ancora provata ma a vedere un po' le open e tutto il resto mi sembra che sia una pista difficile molto bene grazie mille posso aggiungere una cosa sì sì infatti ti volevo chiedere se avevi qualche domanda se volevi trovarti ho più che una domanda un'affermazione per appunto il vincitore il caro dottor Hu io come ho detto in live appunto hai fatto un po' una brutta partenza e a me è dispiaciuto perché comunque avevi fatto la poll e quindi mi è dispiaciuta un po' questa brutta partenza poi ho visto che pian piano hai risalito la china e sei riuscito a vincere quindi complimenti comunque anche per la costanza in un gran premio del genere dove non ti si è reso ceme su tutto me stesso quindi veramente veramente bravo grazie complimenti veramente bella gara grazie mille molto ma allora ultimi istanti ultimi dieci secondi per votare il vostro driver of the day intanto dalla chat succedono cose però chiudiamo allora dando grazie anche a TMR Raptor per il follow quasi zona mille dai 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 grazie mille a tutti quanti chiudiamo quindi il driver of the day con Ferra River Marathon e Naspatz un un triello qualche voto all'ultimo no un poker perché si è giunto anche Dr. Wu allora chiudiamo così con un bel poker il 22% delle preferenze c'è Ferra che risulta a 23 di una percentuale non abbiamo fatto il governo nemmeno questa sera però Ferra si aggiudica in questo modo il driver of the day complimenti ovviamente anche a tutti gli altri ragazzi che ci hanno fatto emozionare io quindi ringrazio Dr. Wu Claudio Chiassoli per questa serata grazie per essere stato anche in parte grazie a te grazie a te River Marathon Cristian River Marathoneta ciao buona serata a tutti e ovviamente anche il caro Kiko Driver buonasera buonanotte Enrico ciao a tutti grazie grazie mille del supporto che ho avuto che ci avevo uno spettatore speciale stasera molto bene ringrazio anche Sebastiano Road Driver per l'aiuto al commento di questa serata grazie a voi ragazzi e dalla direzione gara chi è rimasto Ernesto grazie a te Raffaele buonanotte a tutti molto bene l'appuntamento di campionato di fit è a lunedì prossimo con la Sport League che inaugurerà le danze in Spagna ovviamente potete seguirci sui vari social Instagram Facebook siamo veramente ovunque ma fondamentale sul sito www.formatrentin.com per vedere tutti quanti i risultati gli on board gli highlights le parole dei piloti e continuare a seguire da molto vicino questa dodicesima stagione marchiata Formula Italian Team da parte mia Raffaelelli per voi è tutto grazie per averci seguite buonanotte ciao buonanotte a tutti